Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, benvenuti ai presenti. Un saluto a chi ci segue in diretta streaming. Oggi siamo qui insieme a Tommaso Tanzilli, presidente dell'ente bilaterale turismo Lazio e Roma. E fra poco dovrebbe raggiungerci anche il collega Claudio Di Berardino, che è momentaneamente trattenuto in altri impegni istituzionali. E' il mio collega assessore alla formazione e al lavoro. Oggi siamo qui e sono qui in veste anche di assessore regionale al turismo e agli enti locali, alla semplificazione amministrativa. Perché ho voluto fortemente affiancare e sostenere un'importante iniziativa che l'ente bilaterale del turismo della regione Lazio e di Roma sta portando avanti. E in particolar modo oggi presentiamo i nuovi sportelli territoriali che saranno aperti a Latina e a Frosinone, con l'obiettivo di estendere la formazione e il supporto alle imprese del turismo e la formazione e il supporto agli operatori del settore su tutto il territorio regionale. E allargando, diciamo così, già a sud del Lazio la rete di sostegno e di supporto operativo diretto a dipendenti e imprese del settore, nell'obiettivo appunto di avere una copertura totale su tutto il territorio regionale, diciamo questo allargamento di rete è un segnale concreto e tangibile della non arresa rispetto a quello che stiamo vivendo da ormai più di un anno, rispetto alle tragiche conseguenze economiche che la pandemia ha portato al settore più colpito che è appunto il turismo. Ed è importante questo supporto e questo affiancamento concreto con l'apertura di sportelli fisici, perché il supporto e gli interventi di cui si occupa l'ente bilaterale del turismo è legato a diversi settori, un po' come lo è il turismo, il turismo è un ambito trasversale che attraversa la formazione, il lavoro, il welfare territoriale, quindi l'incontro tra domande e offerta su più ambiti e quindi si tratta di uno step fondamentale, fondamentale perché fa sentire anche fisicamente e materialmente vicino ai dipendenti e alle imprese un supporto che è necessario in questa fase di ripartenza e per il proseguo, il lavoro futuro che si porta avanti sia con l'ente bilaterale del turismo ma in sinergia e lo vedremo anche con le istituzioni. Io non mi dilungo e lascio la parola a Tommaso Tanzilli che farà un quadro sicuramente anche del tipo di supporto e dell'iniziativa che l'ente bilaterale del turismo sta portando avanti e continuerà a portare avanti per un settore fondamentale per l'economia della nostra regione come è il turismo. A te Tommaso. Grazie all'assessore Corrado che devo dire che ha sposato fin da quando gliene ho cominciato a parlare questo progetto di regionalizzazione dei servizi dell'ente bilaterale. Quindi mi è dovuto un ringraziamento che va al di là della forma e al di là dei soliti ringraziamenti istituzionali in primis a lei che ci ha creduto fin dall'inizio e non a caso oggi la conferenza stampa di presentazione degli sportelli di Latina e Frosinone dell'ente bilaterale la facciamo presso la sede della regione altrimenti l'avremmo dovuta fare in sede istituzionale dell'ente bilaterale. Quindi questo è un segnale di vera vicinanza da parte delle istituzioni. Un ringraziamento ovviamente anche all'assessore Di Berardino che anche lui anche per competenza sulla materia ha sposato l'iniziativa e ci dispiace che non possa ancora essere presente come confidiamo che ci raggiunga a breve ma insomma siccome sappiamo in che cosa è intrattenuto è probabile che possa non farcela ma sappiamo insomma che è qui con noi per l'iniziativa quindi lo diamo per presente. Continuando nei ringraziamenti non di forma ma di sostanza mi è dovuto un ringraziamento particolare a Confcommercio Lazio Sud il cui Presidente è presente oggi qui Giovanna Campora perché è attraverso la loro collaborazione che siamo riusciti in tempi molto brevi a costituire gli sportelli delle due province di Lazio Sud così come pure mi è dovuto un ringraziamento ad Ebit che è il nostro omologo cioè l'ente bilaterale del terziario del commercio perché aveva già costituito a Lazio Sud gli sportelli a Latina e Frosinone e collaborando con loro siamo riusciti ad aprire gli sportelli dell'ente bilaterale del terziario. Quindi ringrazio il Presidente di Ebit che oggi è qui presente Guido Lazarelli a cui mi unisce una colleganza dovuta anche ad altri ruoli oltre che quelli della bilateralità. Last but not least dicono gli anglosassoni mi è dovuto un ringraziamento veramente sentito ai colleghi dei settori di Confindustria e Confesercenti perché non è scontato che due rappresentanze confederali di questo tipo diano l'ok convinto all'apertura di sportelli territoriali dell'ente bilaterale dentro il quale siamo tutti ma dentro Casa Confcommercio il che vuol dire che c'è stato un apprezzamento del ruolo e delle attività dell'ente bilaterale ma è anche per quanto mi riguarda un'assunzione di responsabilità perché vuol dire che c'è una sorta di mandato in bianco che però poi in qualche modo va mantenuto e quindi confido che con l'aiuto di Ebit e di Confcommercio dell'Asso Sud si riescano a mantenere tutti gli equilibri ma ne sono veramente convinto. Ultimi ringraziamenti, vi chiedo scusa della lunghezza dei ringraziamenti ma come avete capito la composizione dell'ente bilaterale e delle sue varie anime è articolata e complessa e quindi tutti quanti hanno in qualche modo contribuito al raggiungimento di questo obiettivo. Dicevo da ultimo, me li sono lasciati per ultimi i nostri compagni di viaggio le organizzazioni sindacali che compongono l'ente bilaterale e quindi i segretari generali di Filcams, Visascate e Wiltux che ringrazio in modo particolare per essere stati così collaborativi nella costituzione di questi orghi. In primis mi è dovuto citarla la mia vicepresidente Vicaria che come dico sempre rappresenta l'alta metà del cielo dentro l'ente bilaterale Giuliana Baldini che oggi è qui presente e che ringrazio. Finiti i lunghi ringraziamenti passiamo a qualcosa di merito. Allora perché i sportelli sul territorio? L'ente bilaterale è già l'ente bilaterale della Regione Lazio cioè perché dover costituire i sportelli sul territorio? Perché ci siamo resi conto durante la vicenda che abbiamo vissuto da marzo in poi della pandemia di quanto sia necessario essere il più possibili vicini a imprese e lavoratori. La centralizzazione a Roma, chiamiamola così, non era più sufficiente ce ne siamo accorti proprio durante questo. Lo sapevamo già ma ha accelerato il processo la pandemia e tutto quello che ne è conseguito e quindi abbiamo cominciato a capire e pensare come poter scendere sul territorio per essere più vicini a imprese e lavoratori. E' l'unica essere fisicamente loro vicini cioè proprio con uno sportelli fisici che in qualche modo abbiamo la possibilità di essere facilmente raggiungibili dai rappresentanti delle imprese e dei lavoratori di quei territori. Abbiamo cominciato con il sud del Lazio non ci fermeremo qui perché ovviamente ci mancano anche Viterbo e Rieti per concludere la partita proprio stamattina parlavo con i rappresentanti di Commercio Lazio Nord perché dobbiamo accelerare anche questo tipo di partita che concluderemo credo al massimo entro l'autunno quindi entro l'anno contiamo di aver chiuso gli sportelli di tutta la regione l'operazione per l'apertura degli sportelli di tutta la regione e quindi questo è il motivo per cui abbiamo ritenuto opportuno aprire degli sportelli. La maggior vicinanza di che cosa si occuperanno questi sportelli? Di quello che si occupa l'ente bilaterale nel suo complesso cioè di formazione in primis sia quella obbligatoria che come sapete costa alle imprese e invece l'ente bilaterale ovviamente la fornisce a titolo gratuito e la fornisce con soggetti qualificati e professionali. La formazione è quella riqualificante che mai come in questo momento serve ci arrivano segnali da parte delle imprese che ci dicono che nel richiamare i dipendenti in azienda dopo la riapertura hanno trovato persone come dire, uso questo termine poco tecnico è molto chiaro, sedute nel senso che un anno, un anno e mezzo di fermo di lavoro in qualche modo ha un po' arrugginito certi meccanismi addirittura persone che erano un anno e mezzo che non parlavano più le lingue che erano persone che erano abitate a parlare tutti i giorni hanno avuto qualche difficoltà nell'approccio a riparlare le lingue ecco, mai come in questo momento quindi la formazione è assolutamente fondamentale necessaria il welfare fornisco un dato che è conosciuto solamente all'interno del mondo dell'ente bilaterale del turismo noi l'anno scorso abbiamo speso fra risorse proprio dell'ente bilaterale e risorse che ci sono arrivate dall'ente bilaterale nazionale più di un milione di euro per essere vicini ai lavoratori del nostro settore abbiamo raggiunto più di 4.000 dipendenti con un bonus che è stato molto apprezzato soprattutto nel momento in cui stava partendo la cassa integrazione ma non era ancora arrivata e quindi c'erano dipendenti in fortissima difficoltà spesso banalmente per andare a fare la spesa proprio e quindi l'intervento dell'ente è stato un intervento molto apprezzato e ci siamo resi conto che siamo intervenuti quasi esclusivamente nel territorio di Roma e del suo Interland e quindi ecco un'altra spinta a scendere sui territori se avessimo avuto già gli sportelli pronti nelle altre quattro province del Lazio avremmo potuto dare un sostegno anche a quei lavoratori che invece non ne hanno potuto beneficiare perché probabilmente c'era minor conoscenza dell'ente bilaterale anche da parte delle imprese quindi abbiamo voluto coprire questo tipo di vulnus che ci siamo resi conto avere altra area di attività dell'ente molto importante in un momento come questo in cui probabilmente in autunno parleremo di problemi seri che riguardano l'occupazione è l'incrocio fra domande e offerta di lavoro questo è un altro delle cose di cui si occupano gli enti bilaterali il nostro ovviamente non fa difetto per cui avere un tipo di assistenza che è utile per le imprese ma è utile anche per i lavoratori che magari per qualunque tipo di motivo verranno allontanati dai processi produttivi e quindi cercheranno una collocazione diversa è fondamentale e quindi è fondamentale per l'ennesima volta il fatto che si scenda sul territorio qui sarà importante anche la collaborazione fra enti bilaterali di settori diversi quello più affine a noi è il terziario che oggi è qui presente perché probabilmente ci sarà un travaso di lavoratori da un settore all'altro dovuto ai motivi di un mercato del lavoro che sarà assolutamente incontrollabile soprattutto nella prima fase quindi ecco il motivo per cui abbiamo voluto costituire in tempi rapidissimi i due sportelli all'Azio Sud non si ferma qui ovviamente l'attività perché il processo si concluderà quando avremo come dicevo prima costituito i due sportelli di Viterbo e di Lieti perché dobbiamo dare risposte ad un settore che in qualche modo è ancora in difficoltà allora sta passando una narrazione in base alla quale sta andando tutto bene ahimè purtroppo non è ancora così vi fornisco solo qualche dato ma senza annoiare nessuno la movimentazione turistica nei due territori di cui stiamo parlando lo scorso anno quindi la conclusione della stagione turistica dello scorso anno rispetto all'anno precedente a Latina ha visto un meno 59,50 di arrivi e un meno 60,60 di presenze a Frosinone ha visto un meno 63,34 di arrivi e un meno 67,66 di presenze parliamo di 2020 su 2019 quindi un dato che probabilmente quest'anno andrà migliorando rispetto a quello che è stato lo scorso anno però come vedete nonostante il mare abbia tirato nonostante i romani e i laziali anzi i cittadini del Lazio meglio sono rimasti a fare le vacanze nella regione è un dato inflessione anche perché vi ricordo che questi due territori non sono fatti solamente di mare c'è per esempio l'area Piugina che ha subito un gravissimo danno dalla pandemia e già prima non navigava in acque buonissime quest'anno devo dire che c'è la tendenza degli italiani a rimanere in Italia confermata rispetto allo scorso anno c'è la tendenza addirittura a rimanere nella stessa regione quindi è probabile che molti cittadini del Lazio rimangano nel Lazio a fare le vacanze c'è anche quest'anno un supporto in più che è il progetto Notti più Sogni che l'assessore Corrado ha ideato e messo in pratica nel giro anche di poco tempo e la ringraziamo anche di questo che consentirà di dare una spinta sicuramente al movimento sia turistico interno domestico ma anche di quello straniero perché di questo beneficio poi ne parlerà anche lei se vorrà fra poco può usufruire anche il turista straniero ecco quindi questo è come dire il panorama nel quale ci stiamo muovendo la nostra intenzione è quella di essere sempre più presenti sui territori per dare un aiuto che ci siamo resi conto che mancava ai territori stessi l'ente bilaterale ovviamente sarà molto impegnato nei prossimi mesi su questo fronte cerchiamo di essere il più possibili vicini ad un settore che è quello che in questa regione determina solamente di diretto una percentuale di pille che supera il 13% se dovessimo aggiungere a questo 13% quello che è il primo e il secondo indotto alcuni studi dicono che raggiunge addirittura il 20% ecco stiamo parlando di una fetta importantissima di economia stiamo parlando probabilmente di un settore strategico per la regione stessa e quindi la necessità di fare tutti gli sforzi possibili è in capo a tutti noi è un impegno che ci dobbiamo prendere tutti e soprattutto chi come nel caso dell'ente bilaterale rappresenta veramente tutti perché rappresenta le organizzazioni imprenditoriali e quindi gli imprenditori e rappresentano attraverso le organizzazioni sindacali tutti i lavoratori quindi è un impegno veramente forte importante e almeno per quanto ci riguarda ce la stiamo mettendo tutta grazie 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 Tommaso per questa diciamo per questa panoramica e per aver scandito bene quella che non solo la situazione le preoccupazioni legate alla situazione attuale i numeri rispetto alla scorsa stagione ma anche rispetto agli obiettivi che ha l'ente bilaterale del turismo e devo dire che io ho accolto con entusiasmo questa proposta di estensione e di presenza proprio fisica dell'ente su tutto il territorio perché noi abbiamo una unicità come regione Lazio rispetto all'ente bilaterale del turismo la voglio dire perché è fondamentale soprattutto in un periodo come questo abbiamo l'unicità di avere un unico ente bilaterale del turismo Roma e Lazio all'interno del quale siedono tutti i soggetti parte attiva e attori del lavoro che riguarda l'attività dell'ente quindi sia le parti sindacali le parti datoriali le sigle le associazioni di categoria ed è fondamentale questo ed è proprio da questa unicità che ci differenzia rispetto ad altre situazioni di altre regioni che bisogna partire perché questo è sinonimo di fare rete ed è quello che stiamo cercando di fare e ho accolto anche con veramente entusiasmo questa proposta questa modalità di lavoro perché ci accomuna ci accomunano in particolare due cose con l'ente bilaterale del turismo uno è la visione che si ha rispetto al turismo e l'attenzione all'intero territorio regionale che penso magari alle province che soffrono magari da tempo da sempre di una unicità di un romano centrismo di quella che è la città eterna e dall'altra parte ci accomuna anche la sfida di mettere in campo interventi pratici misure concrete non solo per la ripartenza ma diciamo a 360 gradi per il turismo e l'indotto e come sapete io sono assessore da quattro mesi appena ed è stata questa sfida e quella alla quale ho cercato di dare risposta attraverso poi la misura più notti e più sogni in un momento di ripartenza in un momento in cui tutta l'Italia tutto il territorio tutto il paese vive di turismo di prossimità mi sono chiesta come possiamo rendere come posso io rendere la mia regione più competitiva più attrattiva ma allo stesso tempo dare un supporto agli operatori del settore fare un qualcosa di concreto di tangibile di materiale che unisse più obiettivi ambiziosi da qui la misura più notti e più sogni per cui dal 2 luglio lo voglio ricordare tutti coloro che prenotano tre notti presso la stessa struttura ne avranno una pagata dalla regione lazio piuttosto che due pagate dalla regione lazio ogni 5 notti prenotate presso la stessa struttura e le strutture la lista delle strutture che hanno aderito le trovate su visitlazio.com questa misura ha maggior ragione anche alla luce di quello che abbiamo letto proprio questa mattina sui giornali e su quello che ci trasmettono anche i tour operator le agenzie di viaggio sul calo e l'annullamento anche delle prenotazioni degli italiani all'estero per paura della variante delta diciamo questa è una misura che è da come dire anche risposta a questo mutato scenario che muta al mutare delle condizioni ovviamente imponderabili purtroppo legate al contesto pandemico per cui voglio anche in questo trasmettere un messaggio come dire di supporto di speranza è anche un invito ai nostri cittadini del Lazio perché la misura vale anche per i residenti a rimanere nella comfort zone del Lazio che ha un'alta percentuale tra l'altro di soggetti vaccinati dove i numeri sono più confortanti magari rispetto ad altre regioni e a utilizzare questi mesi di questa stagione per scoprire le bellezze nei dintorni della capitale prima facevi accenno al territorio del Fiugino un territorio con il quale che mi ha visto insomma anche più volte presente e con il quale insieme sia noi come regione insieme al comune abbiamo avviato anche un importante piano marketing perché è un territorio che offre percorsi esperienziali legati allo sport legato al benessere legato al golf legato al benessere alle terme la stessa cosa stiamo facendo con altri territori questo per dire che la visione di cui parlavo prima che ci accomuna è la necessità di mettere in pratica interventi reali e concreti tangibili prendono forma in due azioni concrete una è quella che vi dicevo per il rilancio ma l'altra è quella di una strategia di marketing che abbiamo messo in campo per rilanciare il nostro territorio una strategia che ci condurrà affiancata alla programmazione alla revisione della legge che vedremo approvata a settembre quindi a tutta una serie anche di iniziative concrete legate appunto alla normativa ci consentiranno anche di avere una nuova programmazione più corrispondente e più innovativa al mutato contesto ma anche più innovativa che ci rende più competitivi io faccio riporto anche i saluti come vi dicevo in anticipo all'inizio del mio collega di Berardino perché un aspetto importante col quale sto dialogando col collega e stiamo lavorando ad una diciamo ad una misura è l'aspetto della formazione la formazione è fondamentale fondamentale sia per quello che diceva Tommaso prima tutti questi mesi di fermo hanno portato ovviamente anche alla necessità di un reskill delle competenze ma è fondamentale la formazione per migliorare l'accoglienza e adeguare anche l'offerta turistica alla nuova domanda e a quello che ci chiedono i soggetti ma anche per ampliare i target dei turisti che vogliamo attrarre ed è per questo che con il collega di Berardino ampliando quello che è già un vasto piano di politiche attive del lavoro che lui come assessore alla formazione ha messo in campo sia per la formazione che per la riqualificazione professionale stiamo lavorando ad una misura legata alla formazione esclusivamente per il settore diciamo in particolare per il settore del turismo quindi non vi anticipo i dettagli perché tra l'altro credo che ci riesca anche a raggiungere quindi vi dirà anche lui però questo è per darvi un segnale concreto e farvi capire come stiamo lavorando a 360 gradi su più aspetti quindi non soltanto sugli aspetti magari prossimi legati alla ripartenza ma anche sulla formazione con una visione e anche con un occhio e un'attenzione particolare ai lavoratori qualche giorno fa ci siamo incontrati anche con i miei colleghi sia di Berardino sia il collega Ornelli dello sviluppo economico abbiamo fatto un tavolo proprio anche con tutte le parti sindacali proprio mettendo al centro e ascoltando quelle che sono le esigenze le criticità le paure anche rispetto al mutato scenario nel mondo del lavoro ecco questo è proprio per trasmettervi un come dire un lavoro sinergico e direte che c'è sia all'interno della regione Lazio tra i vari assessorati che ovviamente le cui ambiti le cui competenze si intrecciano ma anche il lavoro sinergico che c'è con l'ente bilaterale del turismo e lo voglio dire con i sindacati e le associazioni anche di categoria perché la misura più notte più sogni è stata una misura che è nata sì dall'assessorato ma che da subito ho condiviso con tutte le associazioni di categoria del sistema ricettivo proprio per far sì che una misura anche se pensate diata per determinate finalità avesse un atterraggio pratico concreto aderente alle realtà alle realtà del settore e questo è fondamentale questo è fondamentale perché consente alle istituzioni di legiferare di normare di fare azioni concrete e mettere in pratica interventi che diciamo però hanno che funzionino che hanno un atterraggio aderente a quelle che sono le esigenze altrimenti si rimane sempre diciamo in un ambito come dire teorico e magari si investono e si spendono anche dei soldi senza però poi aver aiutato concretamente non un settore volevi aggiungere qualcosa? no io volevo solamente aggiungere rispetto a quello che hai detto sul turismo domestico che è quanto è importante la misura che in qualche modo appunto in modo condiviso con le organizzazioni imprenditoriali hai messi in campo proprio durante la presentazione di questa misura al Tempio Adriano me ne sono uscito con una battuta dicendo che il Lazio è una little Italy è una piccola Italia mi spiego meglio nel Lazio c'è tutto quello che c'è in Italia è ridotto ad una dimensione territoriale più piccola abbiamo la montagna abbiamo il mare abbiamo i laghi abbiamo la città d'arte abbiamo le terme cioè tutto quello che l'offerta turistica italiana rende al pubblico sia domestico che internazionale ce l'abbiamo come dire in dimensione territoriale più ridotta nel Lazio quindi è sicuramente come dire quella comfort zone come diceva l'assessora prima che in qualche modo può avere risposte dal proprio mercato domestico in questo momento ed è quello a cui in questo momento ovviamente ci stiamo maggiormente rivolgendo dando assistenza a imprese e lavoratori che in questo momento sono ambe due in grossa difficoltà e purtroppo lo saranno ancora di più quando finirà la stagione estiva e inizierà quella autunnale sarà un problema ovviamente maggiore da affrontare sia per imprese che per i lavoratori perché ovviamente ci si prospetta un inverno che ancora non vedrà la soluzione del problema a portala di mano insomma ma sarà di là da venire quindi il sostegno deve essere assolutamente massimo rispetto anche ai tempi della durata del problema io ecco scusami se ho fornito questo dato ulteriore ma soprattutto in un momento di mercato come questo ritengo che sia importante Sì hai fatto benissimo e aggiungo un'altra cosa mi dai là anche per diciamo per aggiungere un dato importante stiamo lavorando anche alla destagionalizzazione l'esempio è la misura più notte più sogni oggi valida fino al 10 settembre cioè valida per coloro che si prenotano fino al 10 settembre molto probabilmente verrà ulteriormente prorogata fino al 31 ottobre è un lavoro che stiamo che stiamo facendo guardando proprio a quelle che sono le situazioni e contemperando anche le esigenze ovviamente legate al funzionamento e al meccanismo diciamo anche poi amministrativo dei fondi che si utilizzano che hanno delle scadenze però ben precise quindi ecco facendo questo stiamo cercando di dare risposte concrete alle esigenze del settore intanto è arrivato e sono felicissima il mio collega Claudio Di Berardino che saluto vieni Claudio e al quale cedo la parola diciamo dicendogli due cose abbiamo presentato questi l'apertura dei due nuovi sportelli territoriali a Latina e Frosinone del lente bilaterale del turismo e ho ricordato come è fondamentale è unica è unico lente bilaterale nella nostra regione perché ha la fortuna e da qui si deve ripartire di avere una rete unica al tavolo ed è quello che serve soprattutto in un momento del genere in cui fare rete tra istituzioni enti enti bilaterali sindacati parti datoriali parti sindacali è fondamentale per dare risposte poi perché è il ruolo al cui siamo chiamati noi come istituzioni e anche la diciamo il lavoro che stiamo facendo e che abbiamo in programma di fare rispetto alla formazione degli operatori del turismo ti lascio la parola Claudio scusa Valentina solamente un dato volevo aggiungere così contestualizziamo meglio anche a favore di Claudio dell'assessore di Berardino l'argomento che stiamo trattando perché mi sono tenuto in canna come si dice in gergo un dato proprio per l'arrivo dell'assessore di Berardino e quindi parliamo di numeri di imprese e lavoratori che questi due sportelli di Latina e Frosinone vogliono andare a raggiungere con questa maggiore vicinanza territoriale come ho detto fin dall'inizio stiamo parlando di un numero di imprese che a Latina raggiunge le 4.800 unità e a Frosinone le 3.600 per un numero di dipendenti che raggiunge le 25.000 unità circa nella provincia di Latina e le 16.000 unità circa nella provincia di Frosinone con una media dipendenti per azienda che è più o meno in linea con la media nazionale per questo settore parliamo di 5,2 dipendenti per azienda nella provincia di Latina e 4,5 dipendenti per azienda nella provincia di Frosinone quindi diciamo piuttosto sommati in media con la linea nazionale che vede le aziende di questo settore essere aziende a parte qualche eccessione di pregio ma di medio piccole dimensioni ecco questa è la platea a cui questi due sportelli che si stanno per aprire a Latina e a Frosinone dell'ente bilaterale del Lazio si rivolge quindi è una platea importante è una platea che avrà sicuramente necessità di assistenza e di supporto soprattutto nei mesi che ci aspettano buongiorno in questi casi si chiede scusa non solo per l'educazione ma perché effettivamente forse mi sono perso qualche battuta ringrazio la collega Corrado per aver organizzato assieme all'ente bilaterale assieme a dottor Tanzilli e ovviamente a tutti voi che siete presenti che saluto in parte ci siamo conosciuti in altri momenti e ci rincontriamo molto volentieri quindi grazie di questa opportunità a questo punto tre sottolineature veloci una tutte le volte che si costituisce o si amplia un ente bilaterale credo che sia una cosa buona è una grande buona pratica dove le organizzazioni datoriali le organizzazioni sindacali possono in virtù ovviamente delle proprie funzioni ma nell'interesse generale per salvaguardare le imprese e i lavoratori perché credo che gli elementi di forza siano le imprese e i lavoratori entrambi credo che bisogna avere un corretto equilibrio da questo punto di vista e in questa direzione la regione spinge molto ecco perché è importante questo allargamento oltre ai numeri che ci venivano detti di quello che è l'impatto e di quello che sarà il lavoro la seconda sottolineatura è il fatto che assieme a voi assieme alle organizzazioni datoriali tutte nessuna esclusa e chi vi ha rappresentato anche direttamente al tavolo noi fin dal mese di marzo come regione Lazio abbiamo operato assieme alle associazioni datoriali e organizzazioni sindacali per cercare di arrivare prima dello sblocco dei licenziamenti arrivare in tempo cioè fare una azione preventiva e non curativa ed ecco perché noi fin da marzo abbiamo siglato con tutte le organizzazioni sindacali e tutte le associazioni datoriali un importante protocollo che si chiama protocollo per le politiche attive che comprende 21 azioni e la stragrande maggioranza di queste azioni hanno anche una rigaduta ovviamente su di voi e il terzo aspetto che è ricompreso in questo protocollo delle politiche attive che invece anche con la collega Corrado abbiamo anche nei giorni scorsi rivisto ma su cui devo dire il dottor Tanzilli in tempi non sospetti aveva posto alla regione l'ente bilaterale nel suo complesso di porre con attenzione particolare al tema della formazione non una formazione per avere un titolo da chiudere nel cassetto ma una formazione che si ponesse il tema di come a seguito di quella formazione si potevano avere delle opportunità e quindi questo è il senso con cui noi abbiamo poi agito e abbiamo lavorato ecco perché in questo in uno dei punti del protocollo noi l'abbiamo definito una una formazione per il cittadino per il cittadino in formazione in cui prevediamo per i lavoratori che sono rimasti senza lavoro per i lavoratori che sono in cassa integrazione la possibilità di avere una sorta mentre c'è la formazione una sorta di compenso e questo soprattutto perché deve essere collegato al ponte per il lavoro ecco non un qualcosa non un come posso dire un assegno un bonus a prescindere ma un assegno un bonus che possa aiutare il lavoratore a ritrovare uno sbocco occupazionale quindi questi sono gli elementi su cui ovviamente poi noi siamo anche disposti ad approfondire ecco qualora voi lo ritenete più opportuno farlo nelle modalità nelle forme e nei modi perché anzi io reputo che su questi provvedimenti collegati alle politiche attive ci possa essere anche una sorta di momento seminariale se voi lo volete perché ci può essere l'opportunità davvero o tante opportunità perché si va dei bonus occupazionali si va anche ad altri provvedimenti perché c'è tutto il tema che apriremo credo domani con le organizzazioni sindacali e con le parti datoriali proprio per affrontare il tema delle crisi aziendali e vedere che tipo di intervento possiamo fare e quindi mettere in campo un bando mirato non un bando generale generico ma che sappia cogliere quelle che sono le problematicità e i problemi che poi diversi settori possono mettere in campo io vi chiedo scusa non so se ho rappresentato bene il senso ma questo era un lavoro concreto su cui come regione assieme alla curata ovviamente e assieme alla giunta stiamo procedendo grazie Claudio sei stato più che concreto e sono felice infatti prima avevo annunciato non vi dico nulla perché molto probabilmente Claudio ce la farà raggiungerci avevo piacere che fossi tu stesso a dare i dettagli del lavoro che si sta portando avanti Tommaso se vuoi aggiungere qualcosa altrimenti io solamente ringraziare anche l'assessore di Bernardino oltre te che ho ringraziato già ampiamente non solo per la collaborazione ma anche per lo spirito come dicevi tu stessa che ha contraddistinto questo tipo di collaborazione perché si può collaborare ma insomma quando lo spirito è veramente di condivisione della visione strategica sicuramente si raggiungono gli obiettivi più facilmente e quindi dico ringraziare oltre te anche l'assessore di Bernardino perché oggi ha portato una notizia importante rispetto a quello che ci aspettavamo e che stavamo prospettando proprio in attesa del suo arrivo e c'è una possibile stagione autunnale non proprio felicissima sotto il profilo occupazionale quindi come dire prevenire prima di curare che so che spesso viene usata come battuta invece in questo caso diventa veramente fondamentale e strategico e questa questa misura che fa il paio con quella che l'assessore Corrado ha già messo in campo sul piano come dire commerciale di marketing ma in questo caso scendiamo invece sul discorso delle politiche del lavoro sicuramente ci chiude il cerchio nel senso che con i due assessori stiamo mettendo in pista le due iniziative più importanti che ci servono al momento e c'è una sul piano commerciale di marketing e l'altra sul piano delle politiche attive del lavoro quindi se staremo in grado di chiudere questo cerchio probabilmente avremo fatto bene il nostro mestiere grazie io chiedo se c'è qualche intervento nel caso chiedo di farlo lì dal il primo è il presidente Giovanni Acampora che è il presidente di Concommercio Lazio Sud in questo caso è il presidente di molte cose devo dire in questo caso è nella sua veste di presidente di Concommercio Lazio Sud che è il soggetto con il quale abbiamo lavorato per la costituzione di questi due sportelli grazie grazie Tommaso io ringrazio i due assessori che sono stati parti attivi del raggiungimento di questi risultati ma voglio ringraziare tutti voi avete già rimarcato alcuni segnali molto importanti io però voglio aggiungerli ancora di più e renderli ancora più fruibili se qualcosa e l'avete detto ci ha insegnato questa pandemia è che i risultati si ottengono attraverso la sinergia il lavoro di squadra e la condivisione questo l'avete detto voi l'ha detto lei l'assessore Corrado io posso testimoniare che da marzo che questa data che tutti avete evocato il rapporto di collaborazione con la regione è andato avanti su più tavole l'ha detto anche l'assessore di Bernardino abbiamo lavorato intensamente sui ristori su tante su tante iniziative e oggi siamo qui a lavorare su quello che è una secondo me una grande sperimentazione una grande intuizione e la grande intuizione è dovuta al fatto che questa sinergia si vede anche tra mondo delle associazioni Tommaso l'ha chiarito molto molto bene l'ente bilaterale del turismo si farà nei territori e questo è molto significativo ma si farà con una condivisione con tutte le associazioni datoriali e in questo caso va il mio profondo ringraziamento a Confindustria a Confesercenti che l'intellente bilaterale del turismo ne sono parte per aver dato la possibilità di riunire due importanti enti bilaterali all'interno di un'unica casa questa è un po' la sintesi anche del protocollo che ci andiamo a sottoscrivere e qui voglio ringraziare anche il presidente Lazzaretti che sta qui perché questo lavoro è stato un lavoro davvero fatto tutti quanti insieme rimboccandosi le maniche e questo è il primo punto fondamentale ecco se si può superare questo maledetto momento lo si può superare soltanto rimboccandosi le maniche spogliandoci dai nostri ruoli e mettendoci a lavorare ognuno per l'altro per raggiungere risultati e poi il secondo punto secondo me che va rimarcato di questo innovativo protocollo ovviamente un ringraziamento ai sindacati che stanno dietro di me e quelli mi poi se la prendono faccio proprio dietro Gianfranco e tutti quanti perché questo percorso è stato fatto assolutamente con loro ma la seconda secondo me elemento e ci riflettevo mentre lì sentivo le vostre parole è quello che viene tradotto in un termine inglese che è exclusion no? Scaricare a terra le chiacchiere che noi facciamo come istituzione e come politica arrivando sui territori quindi scaricare a terra tutto ciò che noi produciamo perché produrre io dico sempre un motto meno tavole più fatti in realtà i tavoli servono ma poi bisogna arrivare a scaricare a terra i risultati perché se no non abbiamo risolto nulla oggi scarichiamo a terra due risultati importanti due sportelli in due province Latina e Frosinone in due capoluoghi che hanno sentito come tutti d'altro canto la crisi in maniera profonda soprattutto nel settore del turismo i dati li ha detto molto bene l'amico direttore però bisogna fare ancora di più dobbiamo continuare in questa opera di lavoro e di execution perché dobbiamo arrivare nei posti dove probabilmente la crisi la si soffre di più anche perché si è più lontani dall'istituzione e questo è vero è una battaglia che io faccio come ha detto Tommaso nelle molteplici cariche che rivesto sempre però nell'interesse non personale ma delle categorie e dei territori che rappresento e allora dico all'assessore Corrado che bellissima l'iniziativa più notte più sogno io sono stato assolutamente tra quelli che l'hanno in qualche modo apprezzata e anche cercato di veicolare i nostri territori però venga anche nei nostri territori insieme a Tommaso io l'ho invitati subito dopo perché dobbiamo far conoscere quello che facciamo perché lei ha anche fatto un passaggio noi soffriamo il fatto che Roma sia baricentrica non è vero che non lo soffriamo noi lo viviamo soffrire una cosa significa non potersi permettere di gareggiare noi invece lo viviamo costantemente l'abbiamo vissuto continuiamo a viverlo io lo vivo come Presidente della Camera di Commercio di Frosione Latina lo vivo anche come Presidente di Coff Commercio Lazio Sud e lo combatto come Presidente di Coff Commercio Lazio e allora tutti quanti in questo caso dobbiamo fare in modo che le iniziative lodevoli della Regione delle associazioni dei sindacati degli enti bilaterali come abbiamo fatto con gli enti bilaterali e come dobbiamo fare assessore dobbiamo andare a veicolare sui territori lei ha fatto riferimento a Fiuggi è un colpo al cuore per chiunque ci vale io ci vado spesso e vedere davvero quegli alberghi e lei lo sa bene Presidente quegli alberghi desolati in vendita in condizioni veramente che non fanno bene non fanno bene a quella che è l'idea di rilancio dei nostri territori è davvero mortificante allora dobbiamo spingere e spostare il baricentro verso i territori bene molto bene che Tommaso tu sei stato bravissimo in questa operazione e sono certo che chiuderai anche su Rieti Viterbo come già anticipato perché è importante che si viaggi tutti quanti insieme perché se vogliamo in qualche modo fronteggiare questo maledetto momento che stiamo vivendo tutti dobbiamo farlo davvero mettendoci con gli ultimi uso una frase che dobbiamo essere con gli ultimi in questo senso le province non soffrono ma la vivono questa realtà grazie a tutti e buon lavoro c'era qualcun altro allora c'era Bartolomucci prima Bartolomucci della stampa poi dopo buongiorno grazie complimenti per l'iniziativa volevo chiedere se stavate registrando a livello territoriale una difficoltà che è un po' un paradosso parliamo di crisi occupazionale ma le aziende stentano hanno una grande difficoltà a trovare dipendenti a trovare persone che vogliano lavorare anche durante l'estate è un paradosso e vorrei sapere se voi lo avete registrato e come lo spiegate grazie allora può sembrare un paradosso ma non lo è lo abbiamo registrato peraltro oggi è presente qui il collega Luciano Sbraga della Fipe che è stata la prima organizzazione di categoria a lanciare questo grido d'allarme quindi le confermo che il fenomeno è stato registrato ma come diceva prima l'assessore di Berardino dobbiamo in qualche modo non solo rincorrere i problemi ma anche prevenirli proprio con l'assessorato al lavoro e alla formazione il giorno 22 l'ente bilaterale sta per gestire un job day destinato proprio al reclutamento di personale che in questo momento è emesso soprattutto nel settore della ristorazione manca e quindi Fipe e collegi dell'ente bilaterale e l'assessorato al lavoro della regione Lazio gestiranno il 22 mattina prossimo questo job day proprio per tentare di dare una risposta a questo problema che le confermo che le aziende soprattutto della ristorazione hanno registrato non solo della ristorazione anche per esempio nel settore della recettività sempre però all'interno del segmento ristorazione dentro la recettività lo spieghiamo con una serie di dinamiche che non hanno consentito di far sì che questo settore sia appetibile a coloro che in questo momento sono sul mercato del lavoro viene erroneamente considerato un settore come dire non tanto marginale quanto esclusivamente stagionale e per cui in questo momento si sta cercando come dire collocazione più stabile dico erroneamente perché non è così perché invece vuol dire di questo di turismo si vive e si vive bene anche per tutta la propria carriera lavorativa poi c'è qualcuno che aggiunge a questo tipo di dinamiche alcune altre dinamiche diciamo di politiche messe in atto dal governo è nata una polemica per esempio sul discorso del reddito di cittadinanza che alcuni attribuiscono come una delle concause di questo fenomeno non è nostro compito né abbiamo secondo me gli strumenti per analizzare questo tipo di fenomeni dinamiche tra l'altro l'ente bilaterale non rappresenta nessuno non è un soggetto rappresentativo quindi lascio eventualmente ai rappresentanti di categoria fare ragionamenti di questo tipo noi diamo servizi al turismo e alle imprese e quindi non facciamo ragionamenti di carattere politico quindi metto sul tavolo come dire i vari argomenti che si sono dibattuti su questa su questa vicenda il nostro compito è quello di dare risposte e il job day del 22 grazie anche alla collaborazione e anzi alla volontà della regione e dell'assessorata al lavoro gestiremo questo job day proprio per cercare di arginare questo fenomeno che rischia altrimenti diventare un problema un minuto un minuto un minuto perché diamo ci sono delle prenotazioni a margine a margine diamo la parola c'era Alessandra Pelliccia segretaria generale di Filcams CGL Buongiorno a tutti a tutti io in realtà ruberò davvero pochi minuti solo per confermare intanto la grande soddisfazione delle organizzazioni sindacali io lo faccio in rappresentanza di strutture regionali ma sono presente in sale per i protagonisti in qualche modo dell'iniziativa di oggi che lancia gli sportelli nel sud del Lazio di Filcams Fisaskat e Wiltux di quell'area e la grande soddisfazione per un'iniziativa che oggi fotografa in una sede istituzionale una realtà importante del nostro territorio che non è una realtà che nasce da sola io ho solo bisogno diciamo di recuperare questa sottolineatura l'ente bilaterale è figlio della contrattazione che le parti datoriali e le organizzazioni sindacali sviluppano a livello nazionale e nel nostro caso a livello territoriale e io ci tengo a sottolineare questo aspetto perché quando si fa della buona contrattazione quando le parti sociali si confrontano e scelgono come investire in qualche modo le risorse della contrattazione si possono produrre risultati importanti come credo rappresenti l'ente bilaterale del turismo nel Lazio che è un unicom lo raccontava il Presidente lo richiamava correttamente e ne sono contenta perché anche questo è un aspetto che credo vada valorizzato un unicom in Italia perché associa nella sua veste di ente bilaterale del territorio tutte le associazioni datoriali del settore e mette insieme quelle associazioni datoriali con le tre organizzazioni sindacali che firmano la contrattazione di settore mi consta per la parte che rappresento ma ho necessità davvero di evidenziare questo perché credo che la buona contrattazione produca la buona bilateralità e quella buona bilateralità oggi ci consegna degli strumenti concreti da mettere a disposizione dei lavoratori delle imprese e del territorio più in generale e allora questa iniziativa fotografa una realtà e racconta almeno due ambizioni che io ho ritrovato nella presentazione che è stata fatta la prima quella essendo figlia di un sistema contrattuale di offrire servizi e sostegno concreto alle lavoratrici e ai lavoratori del sistema del turismo del Lazio lo facciamo oggi simbolicamente inaugurando gli sportelli del Lazio Sud anche qui non a caso provando a cogliere una fase dell'anno noi proviamo ad investire adesso abbiamo anche fatto uno sforzo organizzativo lo dico in rappresentanza di un pezzo delle parti sociali essendo stata nella discussione che ha prodotto diciamo l'inaugurazione di quegli sportelli con lo slancio generoso delle associazioni datoriali che tra loro hanno trovato una composizione che ha consentito di utilizzare una casa comune per tutti in questo momento con la spinta delle organizzazioni sindacali per cogliere una fase storica di questo paese per esserci in questo momento nel sud del Lazio dove parte la stagione balneare per provare a raccontare alle lavoratrici e ai lavoratori del nostro sistema contrattuale alle imprese del nostro sistema contrattuale di quel territorio cosa può essere la bilateralità per loro cosa può offrire concretamente e se questa è la prima ambizione la seconda ambizione la racconta questa sala l'ente bilaterale del turismo del Lazio ambisce e questo almeno nelle intenzioni di chi in qualche modo per la metà del cielo che rappresenta i lavoratori ha in testa ambisce ad essere uno strumento un vettore di ripresa di rilancio di servizio e di sviluppo anche nel rapporto con le istituzioni si parlava di orientamento al lavoro si parla di formazione ci sono protocolli che le istituzioni promuovono firmano c'è la possibilità nel rapporto con queste parti sociali io lo rivendico con un pizzico di orgoglio attraverso il risultato della contrattazione che le parti sociali sviluppano veramente di mettere in atto qualcosa di concreto allora oggi credo possiamo limitarci ad esprimere una grande soddisfazione non è un limite che restringe è il tentativo di contenere un entusiasmo che credo sia giusto nel momento in cui riusciamo a mettere in atto qualcosa di reale tangibile da domani inizia la sfida diciamo simbolicamente parlando sul territorio sui territori guardando al Lazio Nord guardando alle realtà di provincia che possono integrarsi con il turismo romano centrico io perdonatemi me lo concedo è una considerazione che quando discutiamo di turismo anche in altre sedi in qualche modo proviamo a consegnare ai nostri interlocutori Roma può essere un vettore anche per il turismo delle province le province possono essere pezzi sinergici rispetto al turismo su Roma allora bene l'iniziativa della Regione Lazio a me spiace un po' perché noi come parti sindacali non abbiamo avuto modo di partecipare a lancio in conferenza stampa questo diciamo lo sottolineo solo per auspicare che nelle prossime occasioni proviamo davvero ad esserci tutti perché noi possiamo fare qualcosa in più che è collaborare noi possiamo darci obiettivi comuni e dotarci di strumenti utili a realizzarli io vi ringrazio e buon lavoro Luciano Sbraga direttore Fipe grazie grazie intanto saluto anch'io tutti e un plauso all'iniziativa delle BTL quindi questa era doverosa non era previsto che io lo facessi ma voglio fare una chiosa rispetto alla sua domanda allora partiamo da un dato nel 2020 27.000 lavoratori hanno abbandonato il settore della ristorazione in senso lato adesso qui non parlo di turismo in generale perché mi focalizzo solo sulla parte che noi rappresentiamo direttamente come Fipe 27.000 regione Lazio e di questi 27.000 17.000 sono lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato quindi sono persone che sono uscite dal settore probabilmente persone qualificate che hanno trovato occupazione in altri ambiti voi sapete che ci sono settori che non hanno sofferto in modo particolare per la pandemia anzi in alcuni casi sono andati meglio e hanno attratto magari risorse che non potevano vivere in quella incertezza lavoratori dipendenti che tra stop and go chiusure aperture non si sa e questa cosa la paghiamo ancora oggi perché questo è un settore che ha perso in questo momento quella certezza che aveva in passato un settore che creava occupazione e che ora è diventato insicuro perché ancora adesso si discute di quello che capiterà domani dopodomani o probabilmente fra due o tre mesi in queste condizioni ritrovare personale soprattutto personale qualificato che ha lasciato il settore che era assunto a tempo indeterminato quindi era un personale stabile non i contratti a termine ma a tempo indeterminato non è facile da qui nasce il problema poi tutte le questioni che riguardano le polemiche a volte reddito di cittadinanza sussidi eccetera queste mettiamole da parte sono sullo sfondo probabilmente ci saranno anche situazioni di questo tipo ma noi ragioniamo adesso sui macro fenomeni che sono questi appunto 17.000 persone che erano in pianta stabile nel settore su cui le imprese facevano affidamento perché erano probabilmente anche inserite da tempo che non ci sono più e che non si trovano dietro l'angolo nel momento in cui si riparte ecco tutto qui mi fermo queste sono informazioni che sono già a disposizione dell'assessore di Berardino gliel'abbiamo già girate in altre occasioni quando c'è stato un confronto proprio su questo tema grazie e scusate per questo un po' di programma grazie a te vi chiedo scusa sono stato l'ultimo arrivare il primo ad andare ma perché purtroppo ci sono altri altri incontri con collega Corrado mentre abbiamo ascoltato diciamo questi aspetti relativamente all'incrocio domanda offerta se voi siete d'accordo noi possiamo convocare nelle prossime ore nei prossimi giorni per ragioni di calendario vediamo come sistemare una riunione tra organizzazioni sindacali e parti editoriali perché se c'è questo tema in cui ci sono delle assenze rispetto a quelle che sono le attese di mercato le richieste magari approfondiamo l'insieme vediamo di analizzare in concreto quali sono i problemi l'opportunità e i limiti in modo tale che non lasciamo nulla di intentato come regione ovviamente noi ci siamo e raccogliamo il grido d'allarme anche se di una sola persona di una sola realtà però approfondiamolo e vediamo se possiamo trovare insieme una risposta grazie vi chiedo scusa grazie Claudio grazie anche a coloro che sono intervenuti sarà interessante vedere anche quello che ci arriverà il 22 per questo incontro tra domanda e offerta del lavoro per arricchire l'analisi e il confronto che faremo insieme a Claudio insieme a voi e capire il perché di alcune situazioni io ringrazio tutti voglio soltanto sottolineare e fare un passaggio perché l'ho fatto in maniera molto diciamo molto veloce e mi ha fatto piacere che poi questo sia stato richiamato anche da Alessandra dal segretario generale di Filcams rispetto al tema Roma e il resto del territorio del Lazio e sin da quando mi sono insediata proprio lavorando anche alla programmazione alla nuova programmazione ho sempre sostenuto che sicuramente quando parlo di sofferenza presidente a Canfora parlo di un diciamo di un'annosa contrapposizione che si è vissuto sul nostro territorio tra tra la capitale e il resto del territorio della provincia io credo che quello che è come scenario mutato anche derivante dalla pandemia quello che debba anche mutare è questa modalità di approccio di contrapposizione noi dobbiamo a mio avviso lavorare affinché Roma faccia da traino per il resto del territorio delle province e viceversa nel senso che è qua e qui si gioca il ruolo fondamentale anche delle istituzioni perché come istituzioni dobbiamo nella programmazione legata al turismo essere in grado di fornire dei percorsi esperenziali sul nostro territorio che valorizzino le bellezze lo diceva prima Tommaso noi abbiamo una piccola Italia come Regione Lazio siamo fortunati da questo punto di vista creare dei percorsi esperenziali che aiutino a valorizzare e a scoprire i territori che hanno del potenziale hanno arte storia cultura natura tante bellezze per far sì che quello che Roma attrae in maniera naturale perché nell'immaginario ovviamente internazionale identificata come Italia possa diciamo far da traino ed essere portato a conoscenza nel resto del territorio quindi con questo approccio con questa visione poi si gioca la sfida di riuscire a concretizzare una programmazione che aiuti e potenzi i territori limitrofi in generale che sono intorno alla capitale ci tenevo a sottolinearlo perché va nell'ottica di quella nuova visione e anche di collaborazione che dobbiamo a tutti i livelli e tra tutte le parti avere per dare risposte concrete al nostro territorio io vi ringrazio anche per la pazienza perché non siamo stati non siamo stati brevi ma mi ha fatto veramente piacere ed è stato uno scambio proficuo l'ho ritenuto veramente proficuo ed è stato interessante anche ascoltare gli interventi dei relatori delle persone che sono intervenute a commento a fine diciamo conferenza grazie Tommaso grazie a te anche per l'entusiasmo la passione e l'impegno che ci metti diciamo altrettanto diciamo noi di te e grazie anche per averci accolto dentro una serie istituzionale grazie grazie a tutti e ci rivedremo con nuove iniziative nuove iniziative grazie grazie a te grazie a te